Una bella zona petrolifera, la mia preferita E se vuol petrolio cosa niente, anche la benzina, deve essere un sogno Vedo già un morto lì, è fantastico Beh, ho trovato la soluzione ad ogni male Però, il pugno con la rincorsa funziona, no eh? E invece, oh cavolo Ah Beh, mi ha tolto poco in realtà Quindi al massimo sono solo più resistenti, immagino Cavolo Ciao gubba Beh Ok, mi fido dell'altra parola Guarda, io ho più di una lattina di carne, quindi Si è risolta facilmente Ahia, eh, vabbè Santo graal Male Oh, no Dio mio, ho sbagliato tasto Pim, 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 pim Tu? Pim, 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 pim Ciao amico mio Carico il mio pugno Ho già il codice potrei andarmene E infatti me ne andrò Non c'è niente altro da fare Ah, 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 ah Allora, tu stai morendo di fame, me lo ricordo Adesso abbiamo quel minigioco lì Che non mi dispiace affatto Ok, tu sei a posto Tu, eh, tu stai solo sanguinando Tu fai schifo Tu sei brutto Tu avrai fame Informazione riservata Fabbrica ferroviaria ESC ESC Allora, esci Oila Che bello Un messaggio da Ray Spall Mi sembra che sia proprio alla fine Che è successo? Abbiamo finito il carburante Non posso venire per te Lo so Volevo solo scusarmi Quando ho iniziato a lavorare qui Sono stato troppo severo Cerca di arrivare alla città più vicina Sono fuori dal treno Non riesco a uscire Addio Patrizia Ciao amico Oh no C'è uno di quelli Piccoli bastardi Non siete No, vabbè, dai Che palle Come cavoli hai fatto a beccarmi? Allontanati da me Per favore Va bene anche di là Ciao Ti tiro un pugno Fortissimo Stadio 4 Stato pronto Commento di forma Il motore diesel è stato installato L'equipaggiamento è collegato Tutto è pronto per passare Oltre ci sono ancora problemi col freno A controllare l'assemblaggio Motore diesel eh Qua gli siamo organizzati meglio Ah, non ci permettere neanche Piccolo comunista Bastardo Come avrebbe detto Quello di camera caffè Perché c'è un ritardo? Il fabbro non ha lasciato tracce Non possiamo arrivare alla produzione di massa senza lui Quale sono le alternative? Beh, ora sarà impiegato Nella costruzione del guardiano Quindi ho preparato io Una proposta per arrestare la produzione di treni sperimentali Cosa dirà David? Punto 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 David non dirà niente Perché Lui essenzialmente è morto Credo Stiamo finendo i proietti della pistola Pimpiana Stato in ritardo Commento di forma Produzione è stata arrestata Tutti i lavoratori Nel secondo impianto sono Sospesi Il reattore Il culo Il reattore è culo David ti capisco Ma non siamo ancora arrivati A ottenere un modello Belus funzionante Di nuovo Ho inviato un modello a nord Per farlo esaminare Una volta giustata e restituita Avremo un report dettagliato Un progetto che non porta a nulla Secondo cosa sono questi reattori Migliaia di persone Sono andate a prendere Sono tornate in set E non possiamo buttarle via Zona della prima visita Oh no Cavolo 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 Male Molto male Adesso Non mi ricordo se abbiamo Esplorato tutto Perché ho come la sensazione Che fossimo andati In un punto Invece che in un altro Non posso usare Quello Cioè Sembra cose Fichissime Che però sono inutili Inutilizzabili Perché Perché la vita è così Eh Tutto qui C'era niente E allora siete un po' stronzi Fermetetemelo di dirvelo Quanti treni smantellati Quanti treni smantellati Ah Beh Ma me l'abbiamo visto come Vengono prodotti Ma il nostro è più figo E va detto Perché lo guidiamo noi Ovviamente Bellissimo Ma quanti sono belli I paesaggi In sto gioco Ragazzi Bellissimi Adesso stiamo andando Alla stazione 02T Stazione costruita Per incarico Di un cittadino Che vuole restare anonimo Ah ma lui mi dà Mi dà qualcosa di utile E allora ti tengo in vita Sei caro mio Ti tengo più che in vita Cioè ti faccio anche un massaggio Se vuoi Il capo è nella sua villa Facciamo qualcosa di divertente Ad esempio Un po' pazzi di neve Una bottiglia avanzata ieri Oh In queste stazioni Dove i treni arrivano una volta all'anno Ci tengono i novellini In ogni caso Questa stazione è strana Ma costruita su commissione Un anziano Che vive in una villa Bevino la bea Wow Hanno fatto una battuta Ok Vieni a trovarmi oggi Segni strani sui muri XL Cos'è La TNT Di sto posto Stiamo salendo veramente In alto Cioè le montagne Proprio Ciao belle Bel posto Bisogna ancora Vedere il caos Dentro di sé Per dare vita Ad una stella E là Come siamo Intelligenti Ah qua Quindi facevano Cadere i tizi Si vabbè Quanto grande Sto posto Però Fortunatamente Enorme Stracci e viti Un topolino Ok Chiuso Sappiamo dove dobbiamo andare Oh no Che cavolo sei tu Quello mi è saltato addosso Cioè mi si era attaccato proprio Ok ho preso il codice Ma c'è troppo ancora da esplorare Per poter essere andare così Tedro purtroppo devo ripetere Temo che nemmeno la tua posizione I tuoi contatti Con il membro del consiglio Potranno darmi Farmi cambiare idea Ti informo che ho inviato Un messaggio direttamente Al procuratore generale E onestamente spero che Non abbia vita di te Martien Preparati a essere Ricercato Martien Quindi Theodore Confusionare la cosa Report diveto di Vivisezione Guarda E io Non sono un amante Della vivisezione Sinceramente Devo ancora visitare qua La cappella Si è aperto qualcosa Perché io sento qualcosa Di aprirsi Dopo quel dong incredibile Comunque quella cosa Non mi convince Ha fatto un rumore Particolare Tipo un A meno che Non abbia fatto cadere Semplicemente Della neve Che non ho notato Può anche darsi Certo che questi simboli Un po' in giro Strani Ho uno sarnuto Lì lì Tutti quelli Che non uso io Li sfrutto per voi Dove stiamo andando Informazione riservata Fantast Tuoi fame Lo so Frate però Non posso Darsi Capisce Oh Sono arrivato Andiamo Mio L'ho dimenticato Puri riguardo L'elettricità Per un pelo Scendete Per favore Via Via Ce la fate No Niente Mannaggia voi Ragazzi Qui finisce Questo episodio Ci vediamo Al prossimo E vediamo Cosa sta succedendo In questa città Che sembra Un po' particolare Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti